Grazie a tutti. Anche se tanto affascinante e anche peculiare per tanti versi, come sono i giardini di Venezia. Poco noto anche se sappiamo che i giardini sono molto più numerosi di quello che si può pensare a prima vista. E qui è un po' d'obbligo citare sempre Francesco Sansovino, che nella sua Venezia nobilissima ricorda più di 200 giardini, suddividendoli tutti nei vari sestieri. Non solo numerosi, ma anche molto belli, come il volume che presentiamo questa sera di Tudi San Martini, di Cesare Gerolimetto, credito da terraferma, ci mostra in modo così ricco e documentato. Vorrei ricordare solo i motivi, alcuni dei motivi che fanno sì che questa presentazione si tenga qui all'Istituto Veneto. Anzitutto la stima per il lavoro di Tudi San Martini, la sua opera instancabile, che dimostra tanto amore per la città. Io vorrei ricordare qui solo due volumi, tra i tanti, quello sui campanili recenti, quello sui pavimenti. La stima grande per la fama internazionale del fotografo Cesare Gerolimetto. La possibilità di avere due eminenti studiosi qui, come il professor Augusto Gentili e il professor Patrizio Giulini. L'impegno della casa editrice, un'altra ragione, è ovviamente quella del fatto che proprio qui fuori dalla porta abbiamo uno dei giardini che sono ritratti nel volume. Qui abbiamo questa bellissima immagine. Vorrei ricordare però anche un'altra ragione. L'Istituto Veneto da sempre, fin dalla sua origine, alla metà dell'Ottocento, si è adoperato, occupato della conservazione di Venezia, della parte edile, della parte idraulica. Di tutti gli aspetti in questi ultimi anni poi è molto attento anche proprio a questo problema della conservazione della città in quanto tale, degli abitanti, dell'aspetto civile di questa città. Tra le centinaia di lavori che sono stati pubblicati, centinaia e centinaia di lavori che l'Istituto ha pubblicato su questi temi, permettetemi di ricordarne uno del 1974, una quarantina d'anni fa, di Mario Fadoan e Alessandro Marcello, dove vengono pubblicati i risultati di una ricerca diretta da Eglett reincanato nell'ambito dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, che è proprio sui giardini di Venezia. È uno studio preliminare quello che ha pubblicato l'Istituto Veneto, ma è uno studio attento, c'è una rilevazione botanica di Alessandro Marcello, Alessandro Marcello è un nome molto caro all'Istituto, è stato amministratore per molti anni dell'Istituto Veneto, lo ricordiamo anche come Presidente della Fondazione Quirini. C'è una bella nota storica con delle osservazioni urbanistiche. Scorrendo stamattina, io ricordavo vagamente questo saggio, stamattina l'ho lo scorso e ho trovato una frase che mi ha decisamente colpito. Si legge, il livello generale di conservazione e di agibilità dei giardini esaminati è decisamente scadente. E subito mi sono posto la domanda se i giardini a Venezia in questi ultimi 50-60 anni sono mediamente migliorati o mediamente peggiorati nella loro conservazione. Questa è una domanda che va naturalmente lasciata agli esperti. Permettetemi un ricordo personale. Io ho fatto alle elementari dalle suori Meldine, ai Miracoli, a San Ganciano, e ricordo una mattina andando a scuola, quindi siamo credo intorno al 59-60, di aver visto degli operai armeggiare in campo Santi Apostoli con delle grandi sagome di legno e di carta, di cartone, che riproducevano degli alberi. Era per fare le prove visive dell'impianto degli alberi che poi sarebbero stati impiantati. Quindi io ho questo ricordo di Campo Santi Apostoli, Campiero della Cason, di tanti altri campi veneziani, prima che venissero impiantati gli alberi. Cioè, voglio dire, questa evoluzione dell'attenzione nei confronti del verde, nei confronti dei giardini a Venezia, è decisamente, dirò, cambiata, spero anche migliorata. Posso anche pensare che come effettivamente è migliorata molto la qualità della conservazione edilizia degli edifici veneziani, basta guardare i documentari di Pasinetti degli anni 50, tutti ne abbiamo un'impressione terrificante dello stato di degrado dell'edilizia cittadina. Certamente, nonostante i tanti problemi che oggi abbiamo e di altra natura, certamente l'edilizia veneziana è molto migliorata nella sua conservazione, forse anche i giardini. Credo che, se è così, in ogni caso un segno estremamente positivo è la nascita, in questi ultimi anni, di alcune associazioni molto attive, di volontariato, di studio, che si occupano dei giardini di Venezia. Questa è una realtà, credo, nuova, è una realtà che deve essere segnalata e registrata. Un altro segno, credo, inequivocabile di questo interesse della città che noi tutti viviamo per questo aspetto importante di Venezia è proprio anche questo libro, questo libro testimonia una passione, una conoscenza, un'attenzione, questo come anche altri che sono usciti in questi anni, su questo aspetto proprio dei giardini. Questo per quanto riguarda quindi i motivi per cui oggi noi siamo qui, quindi sono adesso particolarmente lieto di dare la parola subito al professor Augusto Gentili, noto a tutti noi a Venezia, è un nostro, come dire, frequentatore assiduo alle attività del nostro istituto, quindi sono molto lieto di dargli subito la parola. Grazie. Io sono uno storico dell'arte, ma non uno specialista di giardini. E devo precisare questo anche perché, aggiungo naturalmente e per fortuna, da un po' di tempo in molte università italiane, a chi lo sappia, sicuramente in quella di Venezia, esistono insegnamenti universitari di storia di giardini o qualcosa del genere con denominazioni variabili. Quindi ci sono dei veri e propri specialisti di questo settore a cui io sinceramente non appartengo. Allora, cosa posso fare oggi? Intanto fornirvi una serie di impressioni, anche personali, che mi vengono dalla decente conoscenza della città di Venezia, non dico più che decente, per modestia e da foresto per quanto da lungo tempo trapiantato. e naturalmente le impressioni poi venute un po' da sé leggendo il libro di Trudy San Martini e osservando con molta attenzione le splendide fotografie di Girolimetto. Allora, non sono mai stato di quelli che, neanche le prime volte che venivo qui, tanti anni fa, di quelli che dicono, dicevano, ma a Venezia il verde non c'è. Anche per una inveterata abitudine a tenere gli occhi non solo ben aperti, ma anche di solito abbastanza alzati. Certo, l'impressione del verde che io avevo a Venezia nei miei primi tempi è quella che si vede in questa immagine di Vittorio Carpaccio dal ciclo di Sant'Orsola, che si trova anche nel libro di Trudy. Il verde lo vedevo regolarmente dietro a un muro. Quindi lo immaginavo, lo pensavo, lo desideravo, lo invidiavo pure, naturalmente. Poi, continuando ad occuparmi naturalmente di pittura veneziana, e soprattutto di pittura veneziana del Cinquecento, mi sono anche stupito di trovare quadri ultrafamosi, come Il miracolo dello schiavo di Jacopo Tintoretto, dove, se guardate bene, quella specie di dipergolato da cui scendono rami e fogliami verdi sta praticamente alla stessa altezza, allo stesso livello, nel senso della sezione dell'edificio a sinistra, che è tra l'altro un'immagine neanche troppo elaborata della loggetta sanzoveniana. E allora che cos'è? Un verde pubblico? Perché naturalmente poi, nello sfondo, c'è invece l'ingresso al giardino, un ingresso riservato, e dietro c'è un altro giardino. Ma questa pergola al di sopra del signore di Provenza e al di sopra del San Marco che cala in picchiata a salvare lo schiavo mi ha sempre inquietato, non poco, facendomi pensare appunto ad uno spazio pubblico eppure al tempo stesso riservato. Non so bene come dire, è una specie di contraddizione in termini che però è affidata a questa immagine di un pittore particolarmente immaginifico, quindi non insisterò neanche troppo a cercare di capire perché. E allora che cosa sono i giardini? E che cosa sono sempre stati, potrei dire? Che il giardino sia un luogo di riposo, di svago, di convivialità, anche di divertimento e tante altre cose così più o meno in questi termini credo che sia estremamente ovvio. quello che farò adesso è anche così farvi ripercorrere un po' con una piccola selezione di immagini una tradizione che va tutta in questa direzione. E aggiungerei subito però e riservandomi poi di sviluppare questo punto un po' più avanti che il giardino è sempre stato e oggi in particolare continua ad essere non può non essere un luogo di nostalgia. Nostalgia di che? Intanto forse e anche questo è quasi banale nostalgia di tempi andati che per definizione sono sempre pensati come migliori ma anche aggiungerei nostalgia culturale nostalgia di quello che in un giardino si può mettere si può disporre e che in un giardino si può fare. Quindi una serie di elementi di cultura anche figurativa quindi tanto per capirci subito statue di vario genere che nel giardino hanno spesso il loro luogo deputato e che non possono non rimandare ad un passato perché di rado si vedono nei giardini veneziani nel libro di Tudi ce ne saranno due o tre di sculture moderne ma le altre sono antiche o pseudo antiche o fintantiche non mi interesserà vi dico subito stare a distinguere quali sono appunto veramente antiche e quali non lo sono cosa difficilissima in fotografia quasi impossibile e questi giardini del resto sono spesso giardini segreti giardini riservati quindi queste sculture bisognerebbe forse vederle una alla volta volendo proprio inchiodarle darle ad un'epoca ma non è una cosa che io senta particolarmente necessaria allora questa immagine è quella che fra un attimo seguirà sono due immagini dal famoso incunabolo del De Camerone di Giovanni Boccaccio stampato nel 1490 o 91 non mi ricordo più dai fratelli De Gregori Francesco non c'entra che è uno degli incunaboli più famosi incunaboli veneziani più famosi con delle xilografie di particolare interesse e qualità e naturalmente il luogo dove si raccontano le cento novelle è un parco ma ritorni un attimo indietro per piacere scusate e gli elementi fondamentali sono naturalmente la musica che accompagna sempre il discorso amoroso e il discorso così della novella e appunto il giardino con un elemento tipico del giardino all'italiano che è questo padiglione questa vergola questa sorta di tunnel vegetale che è così proprio un denominatore comune di questa e tante altre immagini fermo fermi restando gli elementi che già vi ho detto un attimo fa l'altro denominatore comune quasi immancabile è la fontana che vedete la fontana è il luogo così dello spirito puro purificato che permette quindi un'atmosfera di particolare serenità nel momento della narrazione delle novelle poi vediamo qualche immagine dalla ipnerotomagia polifili che rimane sempre uno scioglilingua il celebre così incunabolo aldino nel 1499 e quando Polifilo si trova in questo luogo aperto che non è un giardino ma non è neanche un bosco e dove si aggirano un paio di animali non particolarmente rassicuranti c'è sempre questo motivo dell'antico naturalmente con tre o quattro pezzi che rimandano direttamente alla scultura antica e ecco di nuovo la pergola rotonda da attraversare che diventa una specie di passaggio iniziatico in chiave amorosa nella vicenda amorosa di Polia e Polifilo come sopra e qui l'associazione di nuovo tra questo elemento di architettura vegetale e la fontana con la celeberrima immagine della fontana di Adone del sarcofago della tomba di Adone diventata fontana ecco con Polifilo Polia e tutti gli altri intorno due immagini celeberrime perché così a quanto pare soprattutto quella che abbiamo visto un attimo prima sembra rimandare a un dettaglio di uno dei quadri più celebri del 500 veneziano e cioè l'amor sacro e l'amor profano di Tiziano poi poi ci sono gli orti conclusi cioè ci sono dei cenni di Tudi nel suo libro usando anche un'immagine che farò farò vedere fra un momento ecco vi faccio vedere alcuni orti conclusi che sono così elementi simbolici della virginità di Maria notoriamente che quindi si trovano molto spesso in soggetti mariani di questo tipo questo è il congelo di Cristo dalla madre di Lorenzo Lotto a Berlino ecco con il dettaglio dell'orto concluso comprendente anche due simpaticissimi coniglietti bianchi nello nello sfondo e poi celebre annunciazione sempre di Lorenzo Lotto a Regalati con un orto concluso al di sopra del quale si affaccia un padre eterno in un atteggiamento quasi di tuffo naturalmente poi il simbolismo dell'orto concluso può essere anche steso al di fuori del personaggio di Maria Vergine quindi può stare anche a segnalare la castità di Susanna quindi un tema biblico naturalmente la sua castità finché sta all'interno di quell'orto concluso che è quello nel secondo piano quando poi entra nel bagno nella piscina allora naturalmente scattano tutti i pericoli perché non c'è più quell'elemento simbolico a fare la garanzia ecco e questa è l'immagine che anche Tudi ha messo nel suo libro questo però non è un orto concluso è un orto aperto ovviamente è una una singolare Madonna con Santi che in realtà poi rimanda al tema della fuga in Egitto del riposo nella fuga in Egitto perché se guardate bene tra la figura di Gerolamo e quella di Maria c'è Giuseppe che sta parcheggiando l'asino e però il simbolismo botanico vegetale come volete chiamarlo è fondamentale all'interno di tutta la pittura quattro cinquecentesca veneziana a partire dal fatto intanto che questo splendido dipinto viene regolarmente denominato Madonna dell'arancio per buoni motivi perché l'albero sotto cui sta Maria è un arancio e l'arancio credo che sappiamo tutti che è l'albero della sposa e Maria è la sposa dopodiché vedete che se Maria è l'albero Cristo bambino è invece il nuovo virgulto il rametto che esce fuori non si sa bene da dove e che connota così anche in termini di simbolismo botanico la continuità e il rapporto madre figlio credo che il più straordinario orto conchiuso il più straordinario nel senso che anche il più ricco anche il più difficile da elaborare stia in questo dipinto ancora ancora un po' misterioso non del tutto ma insomma cioè questo che di solito si denomina Cavaliere di Vittorio Carpaccio nel Museo Thyssen da qualche anno ormai da più di qualche anno a Madrid ma magari di questo particolarissimo orto conchiuso al tempo stesso aperto e se rimane tempo ve ne parlerò ve ne parlerò alla fine ecco e adesso un po' di immagini che vengono dal libro di Tudi immagini che invariabilmente non dico neanche i luoghi salvo in due tre casi su cui ho da specificare così interessi o curiosità particolari ma invariabilmente dentro questi giardini oggi ci sono gli elementi che abbiamo visto che vi ho enunciato quindi sculture antiche o finte antiche o all'antica come in questo caso un centauro che ha non vedo benissimo un bambino una bimba sopra la schiena beh questo mi è molto caro e molto noto perché per uno che sta continuamente sul percorso che porta verso l'università verso l'università il ponte il ponte in Calle Longa San Barnab è un ponte non iniziatico ma obbligatorio e quindi questa doppia terrazza devo dire ha tratto i miei sentimenti soprattutto quelli di invidia che dicevo all'inizio in maniera molto chiara ecco tutti i bacchini tutti con frutta tutti con uva ecco credo di averne messo adesso 4 o 5 ecco li possiamo vedere anche abbastanza rapidamente qui c'è una sagra del vino questo non so bene ma credo che potrebbe essere un Ganimede visto che è un adolescente così e cebbico di bell'aspetto che se non sbaglio ha una coppa nella mano destra quindi potrebbe potrebbe hai nascosto qualche elemento magari no l'hai vestito un po' va bene ecco anche la ninfa l'hai vestita tu? sì immaginavo certo sì sì questo me lo ricordavo ecco queste due ultime sculture sono particolarmente affascinanti devo dire ecco poi un paio di di nuovo di pergole a padiglione questa anche con piano è partito sotto torna indietro un po' un po' ecco eravamo qui sì sì vai 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 ecco ecco il putto e la fontana naturalmente quindi sempre gli stessi elementi ancora beh questa immagino che non sarà una pescivendola ma una naide sì beh ma infatti io l'ho detto con qualche intenzione ovviamente ma per farti reagire un po' naturalmente ecco e un altro elemento però abbastanza raro ma c'è quindi diciamolo è un tantino di esotismo ecco l'alternativa ai grandi modelli diciamo una parola impegnativa ai grandi modelli del classicismo che è tutto quello che abbiamo visto fin qui è un tanto un tanto di esotismo perché questi due custodi sono evidentemente due prigioni hanno anche un piede incatenato e hanno un aspetto decisamente così esotico asiatico non so bene ecco avanti sì 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 ma ti ho detto questo questo mi interessa mi interessa ancora più ancora più che se fossero autentici capisci perché dimostra la continuità del discorso sul giardino di che cosa si deve mettere nel giardino dimostra una prassi ecco e poi ma questi ce ne sono altri in città anche fuori dei giardini come ben sappiamo questi servitori turchi o comunque orientali inturbantati che portano doni di frutti ecco quindi sono giardini assolutamente concreti assolutamente così regolati secondo una prassi secolare con il riuso di elementi tradizionali al punto che poi così diciamo che avrei pensato forse di trovare qualche motivo di novità o di curiosità in più rispetto a questa tradizione l'unico che forse ho trovato questo giardino non a caso di una pittrice no che ha disposto degli specchi che naturalmente moltiplicano questo gioco di di foglie in maniera straordinaria ecco questo è rispetto a questi giardini molto concreti è l'unico tentativo per usare una così un'alternativa ben nota e fin troppo ovvia l'unico tentativo di un pizzico di giardino astratto questo l'ho messo soltanto perché mi assomiglia e un po' di sano narcisismo ecco e questo anche questo per narcisismo perché questo è il giardino di Tiziano e ho letto che tu dici lo sto restaurando nel tuo libro dici che lo stai restaurando bene io abito a 30 metri dalla casa di Tiziano e qualche volta insomma ho tirato fuori sai come nei fumetti quando si vede l'occhio che esce ecco cercare di vedere qualche cosa di cosa rimane di questa mitica casa Ibiri che una volta dava direttamente sulla laguna mi pare da questa immagine che su questo giardino ci sia molto da lavorare sono molto curioso e quindi era una specie di ecco una specie di tentativo di incastrarti via più nel restauro di questo giardino poi gli orti questa è una cosa che ho molto gradito questo escursus sul giardino ma proprio sull'orto ci sono sia orti così che appartengono ovviamente a comunità religiose e anche orti più così più laici ecco questo è ovviamente l'orto del predentore con splendido grappolo d'uva anzi più di un grappolo e l'orto delle clarisse con i carciofi e allora io qui vi vorrei leggere una cosa che mi piace molto molti di molti di voi forse sanno che di nuovo anche per narcisismo e somiglianza io mi ritengo un sosia di Pietro Aretino che non è come molti di voi credono lo scrittore porno del Cinquecento ma il dominatore della cultura veneziana del Cinquecento dal 1527 quando arriva a Venezia transfuga dal sacco di Roma fino al 56 quando schiatta a quanto pare durante un banchetto per un aneurisma così almeno vuole la tradizione trent'anni di dominio assoluto in cui io che sono un tizianista rilevo però che senza l'Aretino a fargli da supporter il tiziano che noi conosciamo sarebbe oggi la metà di quello per l'appunto che conosciamo e Aretino e Tiziano avevano tra i tanti amici comuni un amico formidabile che è l'editore Francesco Marcolini un fordivese trasferitosi a Venezia dove divenne il più importante editore d'avanguardia in quegli anni che non stampava più i grandi classici come Aldo o soprattutto i testi così della tradizione anche religiosa come Giolito ma stampava proprio le avanguardie quindi che so i libri dell'architettura di Sebastiano Servio e altre novità i classici moderni come poi come poi si disse ed è l'editore per l'appunto di Pietro Aretino che tra l'altro per chi non lo sapesse ha scritto ben sei libri di lettere inventando il genere epistolare per l'appunto e questi sei libri di lettere sono una fonte straordinaria e ancora troppo poco battuta sulla cultura veneziana di quei trent'anni che prima vi ho indicato Marcolini aveva un orto a Murano e usava mandare a Aretino le primizie quando le primizie erano ancora primizie e non venivano dall'Argentina e c'è questa straordinaria lettera di ringraziamento di Aretino a Marcolini di cui mi permetto di leggervi un passo voi cominciaste con i fiori degli aranci ad aguzzarmi l'appetito nel condirgli come le mie fanti condiscono i caccialepri la pempinella il dragone con l'altre di più di cento ragioni erbe che mi si appresentano in alcune panerette ed alcuni canestrelli si ben tessuti coi giunchi che forza nell'accettare della mescolanza torvi e le panerette e i canestrelli non so se è chiaro lui si prende l'insalata che arriva con questi paneretti ma si guarda bene da restituire i paneretti dopo aver preso l'insalata io non so dove vi cogliate la varietà dei fiori delle viole e dei garofani che quando non pur accennano di spuntare fuori della boccia mi mandate tutti i fioriti e tutti i odoriferi ecco a me i mazzetti delle viole mammole innanzi aprile eccomi pieno il grembo di rose allora che non se ne vede una per miracolo e che dico io delle mandorle tenerine che mi piacciono come alle femmine gravide appena le ciliegie cominciano a fare le gote rosse mature me ne fate assaggiare ma dove lascio le fragole sparse di grana naturale e di moscato nativo e i cetruoli che appena avevano spuntato il fiore e forse qui mi fermo se no ci viene appetito fra un po' sarebbe però un altro pezzettino io posso arrischiarmi a metter pegno con qualunque volesse dire che io non sia stato il primo a vedere i fichi di quest'anno colti nel vostro dilettevole giardino vostro dilettevole giardino che è un orto e così sarò a gustare le pere moscatelle le arbicocche i melloni le susine l'uva e le pesche ma dove si rimangono i carciofi che si per tempo mi avete portato in tavola e dove le zucche che fritte nella scodella ho mangiate quando io avrei giurato che non fossero appena fiorite e qui chiudiamo davvero la citazione del giardino di Marcolini e della beh se mi date altri cinque minuti e non vi siete annoiati io vi dico qualche cosa di questo straordinario dipinto di Carpaccio in maniera però molto molto rapida e allora per non dimenticare nulla leggo in pratica un piccolo un piccolo elenco questo personaggio ancora ufficialmente non identificato che io per la verità credo di avere assolutamente identificato ma devo esserne ben sicuro e quindi anche stasera non vi dirò chi è è naturalmente un capitano veneziano morto in guerra contro i turchi e non nella lega durante le guerre della lega di Cambrai perché la data 1510 che c'è in un angolo è falsa e il fatto che sia tra l'altro un giovane capitano defunto si chiarisce intanto immediatamente dal fatto che sta rimettendo la spada dentro il fodero non mi dite per piacere questa è un'obiezione che ogni tanto mi viene fatta ma chi ti dice che sta rimettendola dentro e non tirandola fuori beh i pittori sapevano che ci sarebbe stata un'ambiguità e quindi quando la volevano che fosse fuori la tiravano fuori tutta e quando c'è questa positura qui significa che la spada viene rimessa al suo posto perché ovviamente non serve più o quantomeno lui non la può certo utilizzare ecco e vi faccio vedere questa questo straordinario giardino credo che molte cose siano facilmente riconoscibili altre un po' di meno non vorrei impiegare tempo a indicarvele una per una e vi dico che c'è la pervinca in basso a sinistra poi un iris bianco e un iris blu poi dietro le gambe del capitano l'aquileggia blu sempre i cespugli sopra la fontana dovrebbero essere Ranuncolo e Narciso più distante si vedono anemoni rossi ah beh naturalmente sopra in mezzo a questo stagno quella specie di pannocchia rossa Larum una pianta venenosa di palude e più indietro dicevo ci sono fiordalisi Miosotis se preferite che meglio soprattutto per noi oggi non ti scordare di me Crisantemi Primule a destra un giglio così costritto sommerso quasi da un rovo con delle bacche e nell'angolo in basso a destra faticosamente si dovrebbero intravedere anche delle violette sono tutti fiori e piante che indicano morte rinascita virtù onore questo è un capitano che è morto onorevolmente e che vuole riaffermare attraverso il simbolismo diffuso nella pittura del suo tempo la sua integrità evidentemente messa da qualcuno in discussione vi faccio notare che lui sta sul sentiero in mezzo a questo giardino un sentiero arido un sentiero sassoso dominato anche se vi ricordate l'intero da un albero quasi completamente disseccato ma c'è questo prato fiorito di piante e fiori che sono tutti simboli della sua situazione e della virtù nel grande senso umanistico con cui questo capitano ha affrontato la difficile situazione e la via arida è appunto la via della virtù che attraversa il giardino del dolore della morte della rinascita e soprattutto come dice quel ciorellino delizioso che si chiama per l'appunto non ti scordare di me il giardino della memoria vi ringrazio grazie grazie professor Centini questa sua ultima descrizione dei vari fiori il frato ci ricorda come nel volume effettivamente tu di San Martini faccia tutta una ricerca per cercare anche di cogliere nei vari giardini quali essenze quali alberi quali fiori dandocene spesso delle indicazioni molto preziose e do subito la parola al professor Patrizio Giulini che è presente nel volume anche per aver firmato la presentazione perché sono tutti tempi diversi allora io questa in ultima immagine del professor Gentili mi ha come dire fatto cambiare un attimino il programma d'altra parte il bello di queste cose è proprio quello di non sentire ma io ho imparato a memoria queste cose aspetta che ve le racconto quello che è importante è il simbolismo di quest'epoca è il simbolismo che si incontra in un'infinità di pittori che inseriscono nel paesaggio una storia e una testimonianza di messaggio nei confronti del personaggio che è descritto e dice beh questo è un ritratto cosa che facevano con una delicatezza e una precisione assoluta non cito autori ma ne potrei citare tantissimi che ritraggono il singolo fiore con la sua parte vegetativa accanto nel posto giusto dov'è con una fedeltà assoluta tanto da permettere al botanico a distanza di 4-500 anni non solo di dire è quella specie ma se sappiamo la data del quadro possiamo avere la certezza che quella pianta era già a Venezia in mano al pittore per poter essere ritratta se veniva invece da un paese esotico ma il bello di questo e di tanti altri quadri soprattutto successivi è che quei magnifici trionfi di fiori o nel caso specifico testimonianza di messaggio di contenuto del personaggio principale sono non sono mai esistiti cioè quell'enorme vaso con mi è capitato di determinarne uno di 72 specie diverse non è mai esistito per la semplice ragione che accanto a un fiore di primissima primavera ce ne sono di autunnali e qua vediamo le stesse cose con l'arum che è già in frutto quindi in pieno luglio agosto il giglio che è molto prima perché è di giugno l'aquilegia che è ancora precedente e così via ecco che lo storico dell'arte può dire ci sta raccontando delle frottole nella realtà storica perché ci vuol dire qualcosa di più ed è questa la cosa che credo abbia aperto tutto lo studio sul simbolismo e sul messaggio in questo caso vediamo il tronco d'albero tranciato alla loro destra o l'albero che sta cominciando a perdere le foglie perché è appena morto cioè sta morendo alle spalle del personaggio principale e direi che la ragione per cui un botanico con le mani sporche di terra e sotto le unghie nero del terriccio si entusiasma di fronte a queste cose perché sa che ci può essere un connubio straordinario fra lo storico dell'arte decisamente come posso dire privo di mani sporche e tutto il resto con il quale lavorare in perfetta armonia io ho avuto la fortuna di trovarmi coinvolto in alcune occasioni con queste cose e direi che io mi sono arricchito enormemente perché non avrei mai immaginato di poter testimoniare con certezza qualcosa che ovviamente lo storico dell'arte intuisce ma ha bisogno di una conferma questo vale per lotto vale per cima da conegliano ma per tutti bellini a Vicenza ne ho fatto una descrizione vedere la prima volta mi portano a Pistoia per vedere un quadretto io mi aspettavo un bellini grande qualche metro quadrato e mi ritrovo una tavoletta che non è più grande di così che poi ho rivisto a Quirinale ci siamo salutati addirittura perché poi diventa un amore profondo anche per queste cose e vedere che i miei dipinti sono tre millimetri quadrati eppure in quella serie di punte di pennello di colore diverso c'è la possibilità di intuire e capire perfettamente che si tratta che so io di un ciclamen europeum e o di un ciclamen neapolitanum cioè delle differenze che a prima vista un botanico dal fiore non riesce a riconoscere dal vivo mentre lì sono talmente palesate e estratte evidenziate da pennellata che sono una cosa straordinaria comunque a questo punto non devo dare una continuità ai nostri discorsi perché siamo qua per un'altra ragione per far male del libro di tutti i San Martini ma il bello che io la conosco da qualche anno molti ma non è bene che dica di una signora che ci conosciamo da oltre dieci anni in realtà e in realtà va il millennio scorso se è per quello ma non ci vuole molto per dimostrarlo ma quello che è bello è che quando ho letto anzi ho letto la prima stesura poi l'ho riletta beh è la solita piena di vitalità di immagini di ricordi personali che si intuiscono dentro con quell'amore che la accompagna ma il bello della faccenda è che quando mi sono rivisto mi sono visto il libro per la prima volta nella sua interezza con le immagini di un personaggio che non conoscevo e che ho imparato a diciamo stimare amare non sta bene per un uomo ma stimare per la qualità dell'immagine so benissimo che c'è stato più di una lite fra loro due per riuscire a ottenere quel risultato però ricordatevi che stavate litigando anche con la natura tant'è vero che la natura è stata espressa in maniera magistrale perché la fotografia non è altro che l'arte del ritratto cinquecentesco trasferita ai tempi moderni e la testimonianza anche di quanto l'orto veneziano si è diventato qualcosa che come diceva prima il professor Franchini è particolarmente tradita nella sua storia i giardini che noi vediamo oggi per carità non possiamo mummificare anche i giardini io sono il primo che che se ne dica io sono un conservatore estremo ma est modus in rebus non possiamo mummificare un giardino perché ciascuno di noi sulle finestre di casa propria se mette un geranio delle ultime generazioni ha sicuramente un geranio più bello di quelli che avevano le loro maestà sabaude se preferiamo del sud dell'Italia a Caserta 200 anni fa perché la storia della botanica si è evoluta in maniera straordinaria l'Ateneo ha da qualche parte un lavoro del professor Pignatti e mio su questo argomento chiedo scusa all'istituto che è lì prima o poi verrà fuori soprattutto ricordo di Sandro che non sta più bene una volta e per me è un dolore profondo perché è stato il mio maestro di botanica sistematica ma dicevo in questa documentazione noi abbiamo la testimonianza di questo discorso del tradimento veneziano del proprio orto è diventato un giardino molte volte è diventato sua sponte non del padrone ma della natura oggi c'è una prevalenza di specie esotiche ma che si sono sovrapposte si sono introdotte non sono state sovrapposte mi spiego meglio un veneziano che si porta dalla montagna o si compra dal vivaista delle piante introdotte recentemente nel proprio giardino lo può fare soprattutto se il giardino è il suo se alle spalle non ha qualcuno che ha progettato qualcosa di meglio ma se si sente in grado di essere all'altezza della storia del suo giardino liberissimo di piantare anche una specie esotica sarà poi la natura che gli dirà hai fatto bene oppure la pianta muore hai fatto male e sarà pronto quello spazio a ricevere un'altra pianta ma il problema è che invece abbiamo dei sopravvenuti degli estranei degli estranei locali una pianta comunissima che tutti i veneziani conoscono che è il bagolaro che sta diventando il padrone di casa nei giardini veneziani ma non è merito dei veneziani è merito del bagolaro grazie agli uccellini e a tante altre cose che lo portano trasportano d'altra parte il bagolaro è specie spontanea pertanto si diffonde liberamente sta a noi sparare non tanto agli uccellini che lo portano in giro quanto alla pianta una volta germinata toglierla se lì è un surplus ma accanto a queste ci sono tutte le sopravvenute esotiche con altri tanti semi che provengono portati dal vento pensiamo in copertina del libro qua al centro ai lanto una pianta che io odio con tutte le mie forze malgrado sia una pianta guardate la copertina e vedrete è stupenda soprattutto perché ha una fioritura di un colore straordinario nel momento giusto in cui invece del verde butta fuori quelle infiorescenze e quelle fruttescenze che stanno trasformandosi in seme quello che poi ci metterà nei guai che era rosso di un rosso aranciato molto bello questa ahimè è nel divenire delle cose è quello che mi trovo purtroppo a San Giobbe troppo spesso di piante di nessun valore dal punto di vista non botanico ma dal punto di vista naturalistico che arrivano lì e siccome oggi sono i sé noi non siamo abbastanza ancora lì i benetiani malgrado la tradizione non sono leghisti per cui il foresto noi sa neanche a che se è foresto e se è otien e quello provvede a dire bene distruggo gli distruggo il giardino con la stessa cattiveria che suppongo che il buon Umberto Bossi abbia nei confronti di chi arriva da fuori e chi arriva da fuori è lì che è perversa nei nostri giardini in maniera ingiusta e vorrei dire disonorevole e accanto ci sono delle cose straordinarie come per esempio l'oleandro che per primo viene illustrato nei cinque libri delle piante da un veneziano di pura razza il Michele che lo ritrae addirittura non solo nella infiorescenza più tradizionale che è quel rosa intenso straordinario ma anche nel bianco per farci sapere lui le pone nella stessa pianta una bestemmia botanica però non ha importanza quello che è straordinario è la testimonianza solo che arriva con i suoi libri troppo presto non c'è la possibilità di trasformare quel libro dipinto disegnato dipinto a mano in un'opera divulgativa che duecento anni dopo invece il Michele Chiorentino riesce a fare per cui lui è un grande botanico il nostro povero Michele è solamente un disgraziato che è morto di peste ma ragazzi era un botanico straordinario fa di quelle descrizioni spontanee mi ricordo la Tudi in questo modo di descrivere ho piantato una pianta la disegna capiamo subito che è una melanzana dice pianta spinosissima il frutto è viola sicuramente non può essere che un frutto mortale cioè lui non l'ha assaggiato però si aspetta già questo poi invece per noi è un ottimo condimento i siciliani ce lo insegnano infinite volte Venezia ha alle sue spalle specie che ha introdotto da Soria dal Siria non al vecchio e la trasposizione della parola da paesi conquistati da Roma e che Venezia afferma come propri ma per commercio non per conquista comunque è un commercio piuttosto pesante non dimentichiamo che un comandante di nave veneziano a quei tempi era obbligato non solo a procurare tutto ciò che avrebbe potuto in qualche maniera arrecar guadagno alla Serenissima pensiamo ai limoni limoni sono stati per anni la sorgente economica più importante per conservare i giardini di terraferma oltre che quelli veneziani altre piante vengono introdotte dal mar nero pensiamo il pruno lauroceraso quella pianta sempre verde che adesso è diventata una siepe banalissima e stupidissima che oltretutto non resta siepe perché si pela sotto invecchiando quindi non ti dà la funzione per cui la pretendi in quel luogo perché è un albero ma i veneziani quelli veri quelli del Cinquecento non lo accettano nel mio giardino il pruno lauroceraso è sempre tenuto in un cantone adesso lo troviamo presentissimo contemporaneamente invece i veneziani portano in città il lo chiamo alla Veneta il pitosforo cioè pitosporum tobira quella pianta magnifica a Venezia è già brutta a Padova perché a Venezia la salsedine la tiene purificata dai suoi parassiti a Padova non c'è la salsedine e la pianta ne soffre la salsedine quindi non è sempre un nemico altrimenti Venezia non avrebbe più piante perché malgrado le acque alte malgrado le sommersioni evidentemente la salsedine di quando in quando non le fa male ha un altro effetto straordinario condiziona lo sviluppo i platani di Venezia li vedremo fossili fra diecimila anni o più ammesso che ci sia qualcuno che ancora studia queste cose e dice questo qua non può che venire da Venezia è basso tarchiato molto più conico d'altra parte non può salire in alto perché l'acqua salata è una fonte di aridità per la presenza del sale risultato che si deve esprimere in maniera più bassa Padova abbiamo platani avevamo platani di 50 metri e più Venezia quando arriva a 20 metri è già tanto proprio perché ha questa esigenza di di acqua ma di acqua buona non di acqua salata quindi l'acqua salata condiziona condiziona per esempio ai giardini della Biennale condiziona i tigli quelli che abbiamo visto prima per Palazzo Franchetti in una maniera incredibile gli apparati radicali sono talmente schifati di dover vivere in quel fango salato che voi vedete la ceppaia che si allarga in una specie di tavolo da qui al centro parte la pianta questo per allontanarsi il più possibile e avere un po' più di stabilità perché Venezia il mose da una parte il ponte Calatrava dall'altra la testimoniano e abagno nell'acqua e quando non è acqua liquida è fango ma talmente liquido comunque che tutta la città si muove e ha bisogno di sostenersi e qua sto andando lontano dal tema del giardino descritto magnificamente da Cesare Zerolimetto e poeticamente dalla Tudis e Martini abbiamo quella Venezia che vediamo oggi che non è la Venezia dell'Orto è una sono giardini che hanno subito le trasformazioni ma quelle che mi erano bene sono la presenza che so del del nespolo del Giappone che è raro perché non è di facile coltivazione e l'uomo riesce ad averlo nel proprio giardino con lo scopo di essere fiero di quella pianta con quelle foglie magnifiche così tormentate nella forma da creare tutti quei chiaroscuri che la rendono affascinante più quel frutticino stupidissimo perché più seme che non il resto acidulo che ai bambini fa un piacere infinito ma accanto a quello ci sono purtroppo le palme Venezia non è città di palme la palma non è esistita Venezia malgrado qualche illustrazione inventata e lo vediamo dal Bellini per esempio che quando inventa le palme non le ha mai viste in vita sua credo e quindi le fa come le racconta la storia molto lontani dalla verità oggi abbiamo nell'Europa una palma giapponese Trachicarcus Fortunei che è bellissima non lo nego però guarda caso ha avuto la fortuna durante la conquista del Tripoli Tripoli e su Aldamore e contemporaneamente siccome a Tripoli crescono le palme abbiamo finalmente una palma che vive anche a Venezia mettiamo il Trachicarcus Fortunei il quale dilaga di fonde e imperversa perché pur essendo maschi e femmine quindi dovrebbero incontrarsi un maschio con una femmina per poter avere una progenie ma il vento provvede a risolvere i problemi per cui si trasmettono il polline l'uno con l'altra e l'altra naturalmente fa migliaia di semi che vengono intrangugiati dagli uccelli e opportunamente disseminati in giro e di palme giapponesi ne abbiamo un'infinità Veneti avrebbe voluto avere una palma l'unica palma europea che sopravvive in orto botanico a Padova piantata nel 1585 che è la palma nana che a Padova visto che è stata trattata con tutti i riguardi 200 anni dopo la nascita perché è arrivato niente un po' di meno di Goethe a descriverla dicendo questa palma in sé racconta la storia della sua specie nel tempo perché la foglia giovane è intera e poi perché si frammenta e diventa il bellissimo ventaglio che è lo scrive in un testo di Flanfio metamorfose nel 1792 quindi due anni e mezzo dopo la venuta in orto botanico per cui i tedeschi una volta adesso credo che abbiano altri interessi e non voglio pensare a quali visto che li incontriamo troppo spesso per televisione almeno certuni un po' più torsoli e un po' meno sensibili alla poesia delle piante e quelli naturalmente non pensano più a queste cose ma quelli fino a pochi anni fa io ero giovane studente poi piccolo assistente e nella serra delle palme in orto botanico quella della palma di Goethe accanto c'era un librone e non c'era tedesco che non entrava quantomeno si inchinava e faceva un pensiero per il suo Dante Goethe e scriveva due righe per ricordare agli altri che lui era vento lì io mi auguro che con questo stesso spirito e quindi non lo consiglio solo ai veneziani lo consiglio anche agli altri riuscire a leggendo questo libro che è il massimo possibile meglio libro che far girare per Venezia sto dicendo una bestemmia però è questo il significato è talmente sono talmente belle le illustrazioni è colte con una diabolica scelta dei tempi per avere il massimo della qualità dei colori non proprio diabolica avrei preferito avere centi molto più luce e soprattutto i momenti di luce come l'alba come la terra purtroppo non sempre le suore ti permano è certo ma a parte questo però tenga presente che se questo non ci trovassimo nel 2011 ma nel 2021 non sarebbe ancora maturo perché ci sarebbe sempre qualcosa in più da dire e allora bisogna avere il coraggio di affrontare la realtà e dire questo è ciò che vi propongo con la mia esperienza la gioia di riuscire a trovare i momenti giusti per preferire l'autunno all'estate per avere anche i colori più belli e più appariscenti grazie allora no voglio ringraziare faccio veloce leggo perché così non mi papino perché sono emozionata e così faccio prima perché dopo tanto tempo un nuovo libro sui giardini di venezia sono passati 30 anni dall'uscita del libro giardini segreti a venezia che ho realizzato con l'amica cristiana moldi ravena con le immagini di gianni berengo gardin una proposta che continua ad interessare e visto che è giunta alla sua sesta edizione ma come tutte le cose i giardini cambiano crescono si trasformano spariscono ne nascono di nuovi tutto il verde della città è cambiato basta salire sul campanile di San Giorgio per rendersi conto di come la natura regni sovrana Henry James che ha veramente capito Venezia scrive una frase basilare in Italian Hours senza le cose che crescono Venezia sarebbe solo un fatto di pitre e acqua se il primo libro lasciami finire uff se il primo libro era un itinerario ispirato dalla letteratura questo è un viaggio alla scoperta di quella che è oggi verde Venezia è poco ma voglio dire perché e il perché ho scritto sto libro la mia malattia per il verde la conoscono tutti in questi anni ho continuato a cercare a scoprire nuovi spazi come gli orti dove suori monaci appassionati spendono come me tante ore a curare le loro piantine scoperte che ho voluto mostrare e documentare con le fotografie di Cesare Gerolimetto talmente belle che perfino i rose gotti che sono tanti sembrano meravigliosi Cesare lo conosco da sempre perché è l'autore delle foto aeree del libro sulle isole abbandonate della laguna del 1988 sono proprio vecia ci siamo persi di vista per un po' sino a quando gli ho proposto di andare a cercare questo verde nascosto Cesare era esterefato io suonavo tutti i campanelli quando vedevo spuntare delle frasche dai muri di cinta metto questa dei campanelli la devo dire sono le uniche cose che dico allora i palazzi veneziani hanno alle volte anche 10 20 campanelli e lo dico tutti ne suoniamo uno alla volta perché no me ne suonava 6-7 allora qualche volta qualche volta andava bene che rispondeva uno ma qualche volta rispondevano in 5 o 6 e allora nasceva una confusione pazzesca aspetta ma non è finita perché la mia storia è ancora più bella quando vedevo spuntare delle frasche dai muri di cinta e mentre lui si tirava in là per paura di ricevere un seccio d'acqua in testa tutte le porte si aprivano come per magia questo non sarebbe stato possibile senza la passione di Alessandra Crosato responsabile dell'editore in terraferma ringrazio i nostri magnifici relatori Augusto Gentili con cui ho piacevolissime discussioni sul mio amico Carpaccio di San Giorgio e sul signore che abbiamo visto prima e Patrizio Giolini che mi è segnato tutto sulle piante una particolare riconoscenza al dottor Sandro Franchini che gentilmente ci ospita vedete questi preziosi marmi che calpestiamo li ho voluti illustrare anche nel mio libro pavimenti di Venezia perché rendono così bene l'idea dell'acqua alta ringrazio Susan Weiss che ha realizzato la traduzione inglese e la mia gratitudine va ai proprietari dei giardini che mi hanno aperto le porte dei loro tesori e grazie a tutti voi che siete venuti così numerosi a tenermi su di susta grazie siamo noi che ringraziamo Tudi per questa opera ne facciamo i migliori auguri per la prossima alla quale forse sta già pensando siamo tutti invitati a un aperitivo che si tiene nella sala accanto e vi ringrazio ancora anche a nome del presidente professor Danieli di questa bella serata di questa bella occasione che si è tenuta in qualche modo in giardino grazie 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 grazie